Ehi Fere! Dimmi! Lo sai che giorno è domenica? Certo, lo so, è Pasqua, lo sappiamo tutti! Quindi oggi giochiamo una mappa di Pasqua su Roblox, però ho deciso di mettere una sfida proprio dedicata a te Fere, ovvero dovrai trovare 5 uova dentro questa mappa in 30 minuti, altrimenti il tuo uovo di Pasqua diventa mio. No, è impossibile. È rosa e ha il cioccolato bianco che piace solo a me, quindi non puoi. È perfetto per Stefano? No, non puoi. Ehi ragazzi, come va? Io sono Fere Niki. E io sono Stefano, che seggi chiama Roblox. E siamo qui ovviamente con una mappa a tema Pasquale, perché dovremmo cercare delle uova e anche mangiarcele, secondo te. È già iniziato il timer, 30 minuti per Fere Niki. No, 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 non so neanche che devo fare, io non l'ho mai giocata questa mappa. Allora, seguimi, seguimi, seguimi. Praticamente è una mappa gigantesca dove dobbiamo andare a caccia di uova di Pasqua. Qui possiamo scegliere in che location andare e io ti direi, partiamo dal Northern Antarctic perché almeno lì so dove c'è un uovo di Pasqua. Ok. Ok, l'hai selezionato? Sì. Adesso andiamo nel portale? Ok. Allora, quindi davvero Fere Niki si gioca al suo uovo di Pasqua. Non è vero? Allora, l'hai deciso tu? Io non ho mai accettato questa. No, no, è così è. No, non l'ho mai accettata. C'è un video su Instagram dove io mi mangio l'uovo di Pasqua di Fere Niki se non ne trovo a 5 in 30 minuti. E poi muori, e poi muori. Magari muoio, però me lo mangio. Qua sotto ce n'è una, però, c'è un però. A quanto pare infatti in questa mappa prendere le uova non è banale né solo trovarle. Ok. Ci sono sempre indovinelli o sfide particolari. Oh, ma è bellissima allora questa mappa. Lo so. In questo caso. Scusa un attimo, ma quanto è bello il personaggio come nuota? Corri, corri, seguimi, seguimi Fere. Veloce, praticamente c'è un uovo di Pasqua qua dietro, ma bisognava, ma c'è una foca che ti ammazza. Ok. E quindi praticamente. Cos'è successo? Oh mio Dio, l'ho visto adesso. Il famosissimo uovo foca, no? Buono. Che buono. Allora, io dico già mappa della vita. Perché c'è un UFO sott'acqua? Guarda. Lo so, magari c'è un uovo pure qua. Prova a prendere l'UFO. Anche l'uovo UFO vediamo se ce lo dà. Non credo. Ma mi sembra proprio di me. Ti dicevo, praticamente lì c'era una foca che se tu ti avvicinavi ti ammazzava. Un tipo ha preso un pesce, gliel'ha dato da mangiare, l'ha distratta. E infatti non ho ben capito cosa è successo lì in mezzo. E mi sono fiondata a prendere l'UOVO FOCA e... Sì, praticamente quel tizio lì ha fatto le cose al posto nostro. Ok. Ma questo qua è un uovo? Vieni a vedere, sembra più una specie di noce di cocco. Stavo parlando con un tipo perché speravo mi desse un uovo, invece no. Dove sei andato? Provato. Peep Abu Egg. Bellino, bellino, grazie. Peep Abu. Vabbè, questo era in bella vista, dai. Quello sott'acqua era più difficile da trovare. Sì, quello sott'acqua era decisamente più difficile. Sicuramente ci sono quelli più o meno rari. Perché infatti alla destra hai un tastino che è l'Eglist e li puoi vedere tutti quelli che per ora hai preso e tutti quelli che ti mancano. Quindi è proprio una vera e propria collezione di uova. Me ne mancano un'infinità. Cioè, sono tantissimi. Lo so, infatti la sfida non è farle tutte. Secondo me qua da qualche parte c'è un uovo, vero? Sì, mi sembra strano. Puzza di uova. Aspetta, c'è una caverna qui. Vediamo se trovo qualcosa. Dove, 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 dove? Qui dietro. Ah, sì. Non so se mi porterà da qualche parte. Controlliamo, controlliamo. No, mi sembra di no. Perlomeno non ne vedo. Mi sembra strano però che ci sia tutto a sto posto senza uova. Eh, sì, 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 esatto. Vero? Esatto, esatto. Anche a me sembra parecchio strano. Questo qui è il tizio che ha creato questo buco. Perché ha fatto cadere per sbaglio una roccia e ha bucato il ghiaccio. Ma come? Infatti metto, ti prego non dirlo al mio capo. Gli ho detto, va bene, non glielo dirò. Va bene, andiamo a fare la spia, dai, subito. No, poverino, su, non fare la cattiva. No, dai, bisognerebbe punirli, quelli che rompono il ghiaccio. No, non si punisce nessuno, è Pasqua, siamo tutti gentili e carini. Quello è a Natale, non è a Pasqua. Vabbè, anche a Pasqua, no? No. No? Ok. No, ma dove sono le uova? Ne sto cercando da due ore e non ho ancora messo. Eh, lo so, eh, lo so. Sto iniziando a pensare al sapore che avrà quel bellissimo cioccolato bianco. Chissà che sorpresa poi trovo, perché è la cosa più bella dell'uovo di Pasqua, la sorpresa. Sì, chissà che cosa c'è, che poi è rimasta delusissima, perché se leggi l'etichetta... Sì. C'è scritto, la sorpresa non è un giocattolo, e io lì stavo già piangendo. Perché ho detto, perché non mi devi mettere un gioc... Cioè, che senso aprirlo se magari mi metti una cosa che non è un giocattolo? Cioè, tecnicamente tu mi hai comprato un uovo di Pasqua per grandi, quando io lo volevo per bambini. Eh, ma ti ho comprato il più buono esistente. Non mi interessa, cioè, a me l'uovo di Pasqua mi interessa solo la sorpresa. Eh, ma allora ti compro un pacchetto... Neanche l'uovo. Ti compro un pacchetto regalo, c'è una sorpresina, e l'uovo di Pasqua è buonissimo. Così è il cioccolato buono più la sorpresa. Perché il bello è proprio aprire l'uovo, non capisci niente, guarda, non capisci più. Allora me lo tengo io. Ma poi che uovo di Pasqua è? Cioè, la sorpresa non è un giocattolo, che cattivi. Bene, sai dove siamo? Negli abissi, non mi piace. Guarda, hai visto che abbiamo la maschera per respirare questa acqua? Uh, l'avevo notato! E prova a saltare. Però aspetta! Uhuh! Aspetta, aspetta, hai notato che come esci da questa base inizi a consumare ossigeno. Quindi hai dei tempi limitati. No! E devi anche tornare indietro, altrimenti suppongo che muori. Allora, muoviamoci. Seguimi tutto il tempo e cerchiamo di tenere gli occhi aperti e di capire verso dove andare. Quindi, mentre mi segui, guardati intorno e cerca di capire dove potremmo andare. Secondo me, se noi andiamo qua, su queste bollicine, recuperi la barra, sì? Oh yes! No, vabbè, che genialato! Ok, allora, stando fermi qua, stai ferma qua, stai ferma qua, che appunto abbiamo il respiro. Voglio andarmene. Vedi da qualche parte qualche uovo? Ho visto qua, vedi? C'è una specie di cavernina, qui a sinistra, qui a sinistra. Fere, qui? Dove sei? Eccoti, eccoti. Vieni. Ti confondo tra gli altri, siamo in troppi. Eh, lo so, corri, 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 veloce, veloce, veloce. Ma quella lì è una sirena? Eh, sì. O un sireno? Mi sembra un maschio. È un sireno. È un sireno. Buongiorno, sireno. Salve! Sì, è pericoloso, lo sappiamo, andiamo, andiamo a corrifare, non ti far distrarre. Eh, lo so, ma mi sta parlando di un sacco di cose. Scusi un'altra volta, un'altra volta. Uh, ma che bel posto. Qua ne troviamo uno per forza. Qua ne troviamo uno per forza. Cosa sono questi tentacoli schifosi? Non lo so. E che li hai notati, ma fanno davvero schifo. Meglio andare avanti. Eh, buongiorno. Cosa? C'è una porta chiusa. Salve. E un po' di gente. Però mi dice... Ah. Io l'ho aperta. Cos'è sta cosa? Non lo so, ma ci stiamo buttando di sotto. A me non è partito nulla. Fere? Noi non ci sono. Aiuto. C'è una specie di polpo gigante strano. È quello che ho visto prima, stai andando a combatterlo per me. Sì, ma cosa devo fare? Lo devo affettare? Aspetta, sì, l'ho affetto. A me ha detto che devo aspettare fuori, ma ti sembra? Mi sa che la battaglia si può fare solo in un toto di persone. E di lì di andarsene agli altri, scusa. Devi schivare. Oio! Sei morto. Devo tornare da te velocissimo. E spero che mi faccia entrare. Praticamente il polpo inizia a colpire le persone con i tentacoli. Ok. Devi schivare e usare il tridente per affettarlo. E a quel punto gli distruggi quel tentacolo. Sei pronta a fare? Oh mio Dio, che cosa è questa cosa? Te l'ho detto, che terribile. Allora, dobbiamo schivare tutto il tempo i tentacoli e ogni tanto affettarlo. Però, pensa prevalentemente a sopravvivere. Perché è davvero pericoloso e forte. Più di quanto pensi. Io pensavo fosse abbastanza semplice, invece non lo è. Ah, io ho fatto l'uovo. Anch'io, come? Ci stavo dicendo che è difficile. Cioè, come? E invece l'abbiamo già fatto. Io sono arrivato, ho schivato un tentacolo, stavo andando ad affettarlo. Ehi, hai ottenuto un uovo? Vabbè, grazie. Però l'hai visto che è bello? Sì, molto. The Ectopus. No, ma, cioè, sinceramente non ho mai visto una mappa così su Roblox. Fatta così bene? Cioè, l'ho lavorato davvero tanto. Sì. È bellissima. Cioè, con queste animazioni l'hai visto? Anche il polpo poi come è arrivato sembra un altro gioco. È bellissimo. Davvero, davvero. Fossero tutte così le mappe sarebbe strabello. Guarda qua. Ok. C'è una bussola. L'hai presa? Sì, l'ho presa. Ok. Allora. Magari mi porterà da qualche parte. Sì, seguiamola. Seguiamola, seguiamola, seguiamola. Adesso me lo segna giallo. Giallo? Sì, prima era rosso il cursore, adesso è giallo. Vuol dire che ci stiamo avvicinando. Di nuovo rosso. Adesso è giallo. Adesso è giallo. Sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Vieni qua, vieni qua. Verso qua, verso qua, verso qua, verso qua. Dai, 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 che troviamo un altro uomo. Ma no, ma che bella che stava. No, ma la mia segna è da un'altra parte. Adesso è verde. Ho trovato un tesoro, un tesoro, un tesoro e ci sarà un altro uovo. Dove sei finito? Guarda. No, ma è bellissimo. Let's Rizur Eggland. Dove sei finito? Credo che ognuno lo deve trovare sottoterra nel suo posto. Capito? Sì, sì. Secondo me sì, perché ci stavamo andando in posti totalmente diversi. Quindi devi continuare a seguire la direzione. Infatti adesso è verde. Adesso è verde. Appena diventa verde ti propone il tasto E, lo premi e scavi. Eccolo. E infatti sì, vedi, sono in direzioni diversi. Ferre, sto partendo con un sottomarino, Ferre. No, aspetta, anche io voglio venire. Cosa devo fare? Posso sparare. E cosa devo colpire, esattamente? Non vedo più nulla. Che poi si muove da solo, giusto? Sì, sì, fa tutto da solo. Tu devi solo sparare. Probabilmente stiamo andando dove ci sono dei cattivoni da ammazzare. No, vabbè, la mappa è più bella del mondo. Fatemene una al mese così ed impazzisco. Ho scelto l'ultima mappa da provare. Vediamo un po'. Allora, World of Tomorrow. Quindi dovrebbe essere qualcosa di abbastanza futuristico, è strano. E infatti, guarda, subito uno scienziato. Ma che bel mondo. Ci stai parlando? Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Dice che ha bisogno, che ha perso delle uova, ho bisogno del tuo aiuto per ritrovarle e così via. Ok, ok. Allora, vieni. Perché qua ho notato subito un razzo. E quando Stefan vede un razzo, ci va subito. Oh, che bello, vi prego, sparatemi con un razzo. Comunque, a proposito, col sottomarino non abbiamo capito cosa c'è da fare e abbiamo lasciato perdere. Perché si stava mezzo buggando. Allora, non possiamo salire sul razzo, vero? Ha detto che devi trovare l'entrata per riuscire a salire nel razzo, quindi... Ok, questa porta è chiusa, quindi non è questa l'entrata. Ok. Dove potrebbe essere? Qui sotto? Ah! Ah, no, qua, guarda, qua. Sicuro. Facilissimo, vai. Ma anche noi che non vediamo subito... Aspetta, c'è qualcuno qui sotto? Buongiorno. Uh, che cos'è? È tipo un robot, vedi? Ti ha fatto prendere qualcosa? Opla! Bene, bene. Opla! Stavo per caderci. Mamma mia, anche io... Ecco, ecco, fatto! Sto partendo! Uoviti, vieni che tu! Ma scherzi! Uh, ci sono... E dove andiamo? Non lo so, non ho idea. Verso l'infinito e altre! Speriamo non si bughi come sottomarino e che ci porti da qualche parte strana. Eh, siamo in alto nello stesso pianeta, continuo a dire. Ma il razzo ha fatto una bruttissima fine. Già, secondo me abbiamo incidentato un po'. Beh, con noi come piloti non mi sorprenderebbe. Allora... Sotto ci sono cose strane, tipo di macchinari. Sembrano i macchinari di astroni, l'hai visto? Uguali. Ma secondo me sembra più un macchinario per Marte in generale. Allora... Uguali a quelli di astroni. Cosa ti avevo detto? Marte e Curiosity! Capito? Il robotino che c'è in questo momento su Marte. Sì, sì. Lì si è ruota una ruota, sta avendo qualche problemino al momento. Non mi interessa, arrangiati. No, ma poverino! È lì su Marte, tutta solo. Allora, abbiamo finito. 26 minuti e 35 secondi. All'uovo di Ferenichi è salvo. Cioè, sempre se riesce a riprenderselo. Perché al momento ce l'ho io nelle mie grinfie. Magari te ne do un pezzo per... Per la collaborazione? Sì, per la collaborazione. Perché alla fine delle abbiamo trovate tutti assieme. Quindi... Che gentile. Un pezzettino, però neanche metà. Aspetta. Dimmi. Qua ci sono delle guardie minacciose. Vediamo se troviamo qualcosa. Scusate! Ehi! Voglio entrare qui. Mi fate entrare? Dicono qualcosa? Sono scortesi? No, dicono qualcosa. Dicono, non c'è nulla da vedere e fai un passo indietro. Quindi c'è qualcosa da vedere. Dai, io comunque direi che ci possiamo fermare per questo video. È davvero, davvero carina la mappa. Quindi, in base ai likes, ai commenti e al sondaggino che mettiamo. Vediamo un pochettino se fare una seconda parte e cercare di prendere un altro po' di uova. Perché, appunto, guardate la lista. Sono davvero tante. Addirittura ci sono delle mappe che nemmeno abbiamo provato ad esplorare. Quindi, diciamo che... Cos'è questa cosa fantastica? Un secondo episodio ci starebbe tutto. Non mi dica una faccia. Ciao! Ciao! Dicevo che ci possiamo fermare così per questo episodio. Speriamo che vi sia piaciuta la mappa. Nel caso facciamo una seconda parte, se ci riusciamo, entro il giorno di Pasqua. Sì, sì, sì. O al massimo Pasquetta. Vediamo un pochettino se ci riusciamo. Speriamo che vi sia piaciuta. Davvero, davvero ben fatta. Un ottimo lavoro. Ah, sì, a voglia. Sarebbe bello se, all'ora in poi, ad ogni festività, fanno una mappa fatta così bene. E potrebbe essere che sarà così. Quindi ci spero davvero tanto. Speriamo che vi sia piaciuto. E ci fermiamo così. Bene che se ci sia così, lasciateci un like. E se è la prima volta che vi ho detto il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao! E alla prossima! Ciao! Ciao!